L'ex fidanzato di Pamela Prati si è pronunciato in merito al caso Marc Altagirone dopo esser stato a cena con donna Pamela Perricciolo. Il caso Marc Altagirone fa discutere ancora oggi, la truffa romantica di cui Pamela Prati sarebbe stata vittima, infatti, oggi vive un secondo momento di gloria grazie ad Alfonso Signorini che ha invitato la showgirl Sarda a fare parte del cast del suo GF VIP 7 Ultimamente si è tornati a parlare della messa in scena che donna Pamela Perricciolo e Deliana Michelazzo avrebbero architettato ai danni della Prati, coinvolgendola in una finta storia d'amore con un uomo che non è mai esistito A questo proposito, però una foto del vero ex fidanzato della showgirl Sarda ha fatto trasalire i fan Ma cosa è successo? Leggi anche, Marc Altagirone, Eliana Michelazzo rivela tutto su Pamela Prati, debiti, dingo, problemi di soldi Ecco chi c'era dietro l'ex fidanzato di Pamela Prati parla di Marc Altagirone stiamo parlando di Max Bertolani, l'ex fidanzato storico di Pamela Prati I due hanno avuto una storia d'amore molto seria, finita proprio a un passo dalle nozze Interrogato da Eleonora Daniele a storie italiane, l'uomo aveva parlato di donna Pamela Perricciolo e Deliana Michelazzo, intervenendo sul caso Marc Altagirone Secondo lo sportivo, infatti, le due donne avrebbero manipolato la sua ex fidanzata, tanto da farle credere che fosse tutto vero Ecco le parole di Bertolani nel 2019, le persone vicine a Pamela Prati altre non potevano essere che donna Pamela Perricciolo e Deliana Michelazzo, le sue due ex manager e probabilmente autrici della truffa Marc Altagirone La foto insieme a donna Pamela Perricciolo l'ex fidanzato di Pamela Prati, Max Bertolani, forse negli anni ha cambiato la versione delle sue convinzioni Lo sportivo, infatti, è stato visto a cena in compagnia di donna Pamela Perricciolo nella pizzeria Ciccio Pizza Lo scatto è stato immortalato proprio dal proprietario del locale che vantava la presenza dei due personaggi all'interno del suo ristorante Di seguito la foto, forse quell'incontro è valso la redenzione all'ex fidanzato di Pamela Prati? Proprio nelle ultime ore, infatti, Max Bertolani ha pubblicato alcune stories su Instagram davvero eloquenti, parlando della sua ex compagna Infatti, ha dichiarato quanto segue, parole che arrivano come un fulmine a ciel sereno per i fan della showgirl sarda che hanno sempre creduto che fra lei e il suo ex fidanzato i rapporti fossero quanto meno sereni Forse donna Pamela Perricciolo ha corretto la versione che Bartolani aveva della truffa Marc Altagirone Lo sfogo dello sportivo, poi, sempre su social continua così, seguici su Instagram cliccando qui